Ciao a tutti e bentornati al Ci vediamo lunedì. Oggi puntata numero 126 parliamo di metodo semplice per calcolare il rendimento di un'operazione immobiliare. Ne parleremo come sempre col dottor Ivan Giordano. Ciao Ilaria, ciao a tutti. Giurista di impresa, tributarista immobiliare e giornalista. Come sempre prima di iniziare questa puntata vi ricordo di iscrivervi al nostro canale della ICAF TV, quindi andando sulla home page del nostro canale troverete la campanellina che cliccando sopra attiverete in automatico tutti gli avvisi così non appena pubblichiamo un nuovo contenuto voi rimanete sempre aggiornati. Bene, oggi parliamo quindi di questo metodo semplice per calcolare il rendimento di un'operazione immobiliare. Questo perché appunto nei percorsi studio frequentati da agenti immobiliari, investitori, proprietari e valutatori ci sono vari metodi in realtà per determinare l'effettivo rendimento di un investimento o appunto di un'operazione immobiliare. Questi argomenti ovviamente vengono trattati anche in aula di ICAF. Spesso si parla di ROI che è, se non sbaglio, il return on investment più o meno, il ROI, return on equity e del concetto di leva che in questo caso è intesa come leva di indebitamento. Ma qui alla ICAF TV, ecco che dobbiamo stare nei tempi, riusciamo ad estrapolare alcuni criteri semplici per valutare correttamente un investimento immobiliare? Allora Ilaria, sì, carta e penna, i nostri amici da casa. Se sono in metropolitana, in macchina, in autobus. Macchina no, mi raccomando. No, in macchina no, infatti salvatevi il video e poi ve lo riguardate dopo quando arrivate a casa e quindi prendete carta e penna. Dobbiamo determinare un rendimento percentuale, no? Perché dobbiamo determinare un rendimento percentuale? Perché lo mettiamo a confronto con un rendimento a basso rischio, che quale potrebbe essere un deposito bancario vincolato? Quindi vado in banca, porto 100.000 euro. Quanto mi dà la banca? Con i tassi di adesso mi dà il 5% lordo? Perfetto. Questo è il rendimento che io dormendo potrei far generare in capo al mio capitale. Oppure prendo quel capitale e lo metto in un investimento alternativo, quale ad esempio l'investimento immobiliare. Quindi non è che io il fattore tempo ce l'ho analogo, perché in banca metto 100.000 e i soldi stanno là per un anno. Dopo un anno prendo 5.000 lordi. Se io un'operazione immobiliare la faccio girare in otto mesi e mi rende una certa percentuale in otto mesi, devo relativizzarla a base annua per poterla confrontare con un rendimento bancario, per capire che mi è convenuto di più fare l'investimento immobiliare rispetto all'investimento bancario. Al contrario, se io impiego due anni a far girare quei 100.000, se l'operazione immobiliare mi ha reso l'otto per cento, è come se mi avesse reso il quattro, perché l'ho impegnata per due anni, quella cifra. Quindi il fattore tempo innanzitutto è il fattore fondamentale. E ogni volta che parliamo a qualcuno di un investimento immobiliare che ha un rendimento del per cento, questo qualcuno lo mette immediatamente a confronto con il rendimento bancario, perché il parametro di confronto è il rendimento bancario, che è la percentuale che mi viene data di interesse su un capitale immobilizzato per un anno. Quando parliamo del 2%, 3%, 5% bancario, è sempre su base anno, quindi abbiamo il fattore tempo. Quando parliamo di un'operazione immobiliare che ha reso il 30%, perché ho comprato a X, vendo a Y e mi rimane un margine del 30% del capitale investito, e beh, ma in quanto tempo l'ho marginato il 30%? Se ho impiegato tre anni è il 10% all'anno, se ho impiegato un anno è il 30%. Allora, numeratore e denominatore, tirate con una riga orizzontale il fratto, cosa mettiamo al numeratore? Al numeratore mettiamo i canoni di locazione percepiti, al netto delle imposte, al netto dei costi di gestione, al netto dell'Imu, al netto della tassa rifiuti se è rimasta a nostro carico, al netto di tutti i costi che mi hanno comportato la maturazione di quel canone, più il ratio annuo della rivalutazione immobiliare prevista. Quindi, se io penso di tenerli immobile 10 anni e penso che in 10 anni si possa rivalutare di 50.000 euro, io devo mettere 5.000 euro, che è un anno, e il rendimento della locazione netta di quell'anno. Immaginiamoci che il rendimento della locazione netta sia 10.000 e che la rivalutazione sia 5.000. Io ho 15.000 euro all'anno di rendimento atteso. Su quale importo devo mettere a confronto i 15.000 euro all'anno di rendimento atteso? Sull'investimento. Perché in banca, quando mi dicono ti do il 5, ti do il 4, ti do il 3, vogliono vedere il bonifico che finisce sul conto corrente della banca, altrimenti non mi danno nel 5, nel 4, nel 3. Se io per comprare un immobile uso una leva bancaria e un immobile da 100.000 euro faccio 50% di mutuo e 50% lo pago con soldi miei, il capitale che io ho investito è il 50%, non è il 100%. Eppure il rendimento è sempre 15.000 nell'esempio che abbiamo fatto prima. L'anno dopo, l'anno dopo ancora, il mio rendimento diminuirà perché oltre ad avere il capitale iniziale avrò le rate di mutuo che ho pagato. Quindi al denominatore metto capitale iniziale più sommatoria di tutte le rate pagate. Il primo anno avrò il capitale, dopo 12 mesi avrò il capitale più 12 mesi di rate pagate, dopo 24 mesi avrò il capitale più 24 mesi di rate pagate e via via fino a quando avrò finito di pagare il mio mutuo e che quindi il mio rendimento percentuale sarà diminuito perché al denominatore ha una cifra più alta. Quindi senza grandi sofisticazioni. Primo, il fattore tempo. Tutti i rendimenti devono essere confrontati su un rendimento su base a 12 mesi, altrimenti non possiamo confrontarlo col rendimento bancario. Secondo, dobbiamo mettere al numeratore la rendita netta annua d'allocazione e il rate annuo di riflutazione immobiliare attesa. Al denominatore il capitale investito, che è dato dal capitale iniziale più la somma delle rate di mutuo pagate nell'anno in cui sto facendo questa analisi. Ecco questo semplicissimo metodo di calcolo del rendimento immobiliare. Beh, sì, semplice. No, ma se loro hanno preso gli appunti non è difficile. E quindi la domanda che vorrei farti, ma non so se abbiamo già avuto una risposta per seguirti nel... che appunto abbiamo quindi questi due fattori, il fattore tempo che è quindi il riferimento annuo e la fonte del capitale che è se proprio o di terzi e fin qua ok. Ma alcuni esempi su questi due concetti? Compro un immobile, costa 100.000 euro. No, non costa 100.000 euro. Il prezzo di vendita in agenzia è 100.000 euro. Alla fine mi costerà 115, 120. Mi costa il notaio, l'agenzia, le imposte. Non è che mi costa... ok, perfetto. Io quanto ho tirato fuori di 120? Questa è la domanda. Al numeratore, al denominatore metto quanto ho tirato fuori di 120. Se di 120 ho tirato fuori 50.000 e 70 li ho avuti a prestito dalla banca, il mio denominatore è 50.000, più di anno in anno le sole rate che ho pagato del presto bancario, non l'intero importo. Perché il capitale mio è 50.000 e ancora il capitale mio sono le rate che ho pagato. Per il resto ho fatto l'operazione con il capitale della banca. La banca sarà remunerata dagli interessi. Io invece sono remunerato dalle locazioni e dalla rivalutazione immobiliare. Io devo togliere, io mettendo nel capitale investito gli interessi, automaticamente ho una remunerazione. La banca è remunerata dagli interessi, non è mia socia nell'operazione. Meno soldi metto per comprare una casa è più alto il mio rendimento, perché l'affitto che prendo è lo stesso e la rivalutazione che ottengo è la medesima. Non è che l'affitto che prendo o la rivalutazione che ho dipendono da quanti soldi ci ho messo. Quindi se una persona ha una grande propensione al rischio e ha una capacità di accesso al credito, gli conviene comprare immobili con leva bancaria e non con capitale proprio. Perché più è alto il capitale proprio, più è bassa la remunerazione del capitale. Più è alto il capitale di terzi, più è alta la remunerazione del capitale proprio. Ok. E quindi per concludere... È un atto di fede il tuo. Ma sì, è un atto di fede, ma penso per tutti, tranne per i pochi che già trattano questo argomento e quindi di conseguenza l'atto di fede si conclude con uno. Quali sono gli eroni più comuni? Ecco. Questo lo dico ai nostri amici agenti immobiliari da casa, no? Loro magari sono già più sul testo. Perché loro vanno a vedere, a far vedere un immobile. Lo vedi questo immobile? Ecco, guarda, riesci a portarlo via a 100.000 euro. Bene. Poi tieni conto che rende 8.000 euro all'anno di affitti. Quindi hai l'8% di rendimento. Questo è proprio quello che non dovete dire. Perché quell'immobile da 100.000 abbiamo detto in realtà viene via a 115.000. E il rendimento non si calcola né sul prezzo di vendita né sul costo complessivo, ma rispetto all'investimento materialmente che io ho fatto. E l'investimento materialmente che io ho fatto è il capitale che ho tirato fuori più le rate di mutuo che ho pagato. Il capitale che non ho pagato non è un mio investimento, è la leva bancaria che ho messo. Se io metto più leva bancaria e meno capitale mio, il mio rendimento va alle stelle. Quindi mettete la leva bancaria. Mettete la leva bancaria. Il messaggio chiave alla fine è questo. No vabbè, allora io capisco che appunto è un metodo semplice, anche se semplice non è, però ecco in realtà per chi tratta questi argomenti tutti i giorni come te Ivan, ecco sicuramente hanno captato la semplicità di questo. Poi nei corsi ICAF ci mettiamo lì in una lavagna telematica e facciamo i calcolini. La scrittura bella di Dottor Giordano. Con la mia grafia che è fantastica. Così poi vi rimangono degli appunti meravigliosi da rivedere a casa. No vabbè, a parte gli scherzi, ovviamente tutti questi argomenti qua vengono trattati nella nostra formazione ICAF e quindi sicuramente avrete modo per chi è interessato per chi si è incuriosito, ecco, sentendo di questo argomento, di approfondire questi argomenti e soprattutto apprenderli e impararli. Ecco, accendiamo le menti anche in questo caso. Quindi, se vi abbiamo acceso le menti e quindi abbiamo suscitato interesse per questo argomento, io ringrazio il Dottor Giordano per aver alimentato questo desiderio e di conseguenza saluto tutti voi, vi ringrazio per averci seguito. Mi raccomando scriveteci qui sotto commenti in merito al video, consigli su eventuali nuovi argomenti che volete trattare insieme al Dottor Giordano e me e niente, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo lunedì a ci vediamo lunedì. Grazie a tutti!